Abbiamo in collegamento con noi adesso un altro ospite che è Vittorio Stasi, il direttore artistico del Cilent Art, una manifestazione molto molto interessante di cui adesso parleremo. Siamo in attesa anche del collegamento di Alfredo Balsamo che è il direttore del Teatro Unico Campano. Giusto Vittorio, ben trovato, buon inizio settimana. Buongiorno a voi tutti. Sì, siamo in attesa di Alfredo Balsamo che è il direttore del Teatro Pubblico Campano, che è il circuito multidisciplinare della Regione Campania e che sta co-dirigendo insieme a me questo progetto, ecco, questo festival multidisciplinare diffuso. Borghi ritorna con tantissimi eventi in diverse località del Cilento, ecco, spieghiamo nel dettaglio di cosa si tratta. Raffaella, però fammi salutare il mio grande amico di sempre, nonché mio fan, adesso non lo è più probabilmente, perché ricordo quando venne a vedere il mio film Password nel 2005-2006. Allora, come stai? Che a voi Gianni, insomma, per la crescita e la professionalità che quotidianamente mettete nel vostro lavoro. Io sto bene, sto bene, abbiamo iniziato dal 22 questo progetto, quindi siamo quasi, no, in una dimensione, siamo a un 30% del lavoro svolto, quindi iniziamo già a sentire un po' di stanchezza, però si procede, dai, si procede bene. Quando è nato il progetto CilentArt? Raccontaci subito. L'anno scorso è nato l'anno scorso, ecco, questa è la seconda edizione del CilentArt Fest, è nato l'anno scorso in un periodo post-pandemico, quindi tornando in Cilento dopo alcuni anni fuori regione, c'è stata questa possibilità di dialogo con Alfredo Balsamo e con il Teatro Pubblico Campano, proponendogli questa idea, questa volontà di costruire un festival multidisciplinare, quindi coinvolgendo linguaggi artistici dalla prosa alla danza, al teatro di strada, alla formazione, alle residenze artistiche, che in qualche modo potevano invadere i nostri comuni, i nostri comuni del Cilento, creando un rapporto di dialogo e di confronto tra la comunità ospitante e gli artisti, ecco, che entravano, che sono entrati proprio in stretto contatto con questi piccoli borghi e la specifica poi di questo progetto è che artisticamente arriviamo in questi borghi, quindi scegliamo delle location naturali e l'artista condivide con il pubblico presente la propria arte, la propria dimensione artistica e questo, diciamo, è una cosa molto bella perché non abbiamo palcoscenici ingombranti, non abbiamo luce artificiale perché poi la caratteristica di questo progetto è che il festival si tiene al tramonto, quindi alle 19.30 abbiamo questo appuntamento principalmente di prosa che accompagna un po' nel suo insieme tutta la programmazione artistica. Davvero i miei più sinceri complimenti, è una idea straordinaria, sono sicuro, insomma, già dall'anno scorso ho sentito delle recensioni ottime sull'iniziativa, quest'anno ancora meglio perché c'è la possibilità, insomma, anche se il Covid ci sta dando problemi, però c'è maggiore disponibilità da parte di tutti di voler uscire e di magari stigmatizzare un po' questa pandemia. E nel frattempo vedo anche il direttore Balsamo, ben trovato direttore del Teatro Pubblico Campano. Grazie, grazie, grazie. Aver incontrato il direttore già in conferenza stampa ad Agropoli o sbaglio, qualche anno fa per quanto riguarda il Cineteatro Eduardo De Filippo? Senz'altro, senz'altro, senz'altro. Lo gestiamo, diciamo noi come Teatro Pubblico Campano la stagione di prosa. Direttore, la notizia bella per quanto riguarda noi che da luglio Cilento Channel trasmette in tutta la regione Campania sul canale 180, quindi finalmente gli amici di Napoli, soprattutto come lei e come tanti altri che ci conoscono e con i quali entriamo in sinergia spesso, soprattutto in estate, saranno felici di godere anche di questa nostra capacità di trasmissione. Quindi questa è la bella notizia, la prima. La seconda è questa bellissima iniziativa del Cilentart in sinergia con Vittorio Stasi, da parte sua piena collaborazione. Ci spieghi meglio, insomma, quelli che sono le peculiarità di questo evento? Le spiego, al di là delle peculiarità che le ha già espresse Vittorio, le spiego il perché. Il Teatro Pubblico Campano ha inteso collaborare e intervenire in queste aree. E' nostra, diciamo, anche funzione quella di raggiungere dei piccoli centri che non hanno il grande rapporto con la grande città, perché in questi posti chiaramente non ci sono i teatri, non c'è un'abitudine teatrale ad andarci e quindi ci arriviamo noi con questo progetto, diciamo, estivo ma molto pensato, diciamo. E poi chiaramente rapportarsi con questi piccoli comuni forse ci dà anche maggiore soddisfazione di qualche recita nei grandi teatri napoletani o di tutta la Campania, insomma. Questo progetto l'abbiamo condiviso, apprezzato, lo stiamo svolgendo con grande, diciamo, piacere e fatica. Ma siamo all'inizio della fatica, Vittorio già si è stancato, ma è prematuro stancarsi, perché finirà la prossima domenica, quindi abbiamo ancora sette giorni. Quindi Vittorio, mi raccomando. Ricordiamo che il Cilent Art Fest, ne approfitto anche per salutare il direttore Balsamo, ben trovato. Ecco, è partito il 22 luglio, durerà fino al 31 luglio, quindi mi raccomando di non perdere i prossimi appuntamenti perché ci sono tantissimi ospiti di qualità, direi, che alliteranno le serate cilentane, ecco come anche annunciava il direttore Balsamo, con una manifestazione molto molto di spessore, direi. E allora vogliamo andare nel dettaglio, a cosa potrà assistere il pubblico occidentano in questi giorni? E allora, questa sera saremo a Perito, il programma si svolge principalmente dalle 18 fino alle 22. Abbiamo appuntamenti di danza, progetti speciali di comunità, appuntamenti di teatro, appuntamenti di teatro ragazzi, insomma, diversi, un programma molto ampio, avremo artisti come Roberto Latini, Ascanio Celistini, Montanari, la compagnia Zappa la Danza, Marco D'Agostini, insomma, un programma che può piacere ai più grandi e anche ai più piccini. Quindi, diciamo, una programmazione di oltre 25 appuntamenti, programmati nei nove comuni, in rete, in partner con il progetto. Direttore Balsamo è presente insieme a noi nel tour di Cilent Art, o segue, insomma, dalla sua base le iniziative, direttore? La base è in Cilento, perché io vado nel Cilento da 40 anni, quindi quando c'è un attimo di possibilità io sono lì, a Scario, nel Cilento. E a proposito di questo, volevo dire che la manifestazione ha anche una sua valenza particolare, nel senso che riusciamo a far scoprire dei luoghi probabilmente non conosciuti ai più. Per esempio, a Scario ci sta questa pianura di Cio Landrea, che è un posto straordinario, da cui si vede tutto il golfo di Policastro e nelle belle giornate si arriva a Panarea, insomma, tutti questi posti qua. Quindi scoprire questi posti, come il tabacchificio a Pestum, che ha aperto da qualche giorno, scoprire questi posti, i piccoli centri, incontrare anche quello che io vado dicendo da un bel po' di tempo, questa famosa dieta mediterranea, che chiaramente è una prerogativa del Cilento. Secondo me facciamo un servizio alla cultura, sia quella teatrale che quella culinaria. Anche tre corsi formativi gratuiti, ecco, questo lo dobbiamo sottolineare perché è importante. Di cosa si tratta? Raffaella, noi abbiamo, diciamo, il progetto CilentArt ha avuto diverse, sta avendo anche diverse declinazioni progettuali. Abbiamo dato una definizione class, proprio per la dimensione, per la sezione dedicata alla formazione. Il Teatro Pubblico Campano ha voluto investire in quello che è un elemento importante, oggi come oggi, del nostro assetto artistico, oltre che organizzativo. Quindi, insieme al curatore della sezione class, che è Michele Mele, abbiamo immaginato tre percorsi di formazione. Uno di scrittura scenica, che è terminato proprio ieri, con il più volte premio UVU Roberto Latini, che stasera sarà in scena a Perito. Oggi, invece, è iniziata la class di recitazione con l'attore e il regista Arturo Cirillo. E il 28 e il 29 di luglio avremo a Gioi, nel comune di Gioi, due giorni dedicato alle pratiche comunicative. Quindi abbiamo immaginato un percorso eterogeneo, con più sezioni, in modo da avere anche un target più ampio. E considera che in questi giorni stanno arrivando diverse persone da diverse parti d'Italia. Questa è una cosa bellissima, perché arrivano in questi piccoli borghi, vivono questi borghi, e quindi c'è anche una ricaduta importante su quelli che sono anche le piccole attività commerciali di questi comuni. Oltre che, chiaramente, offrire un servizio e offrire una programmazione molto importante e di alto valore artistico e formativo. Direttore, io invece vorrei soffermarmi un attimo sulla capacità del teatro di rialzare il capo. Dopo questa pandemia ci sono stati una serie di problemi, tante attività teatrali hanno rischiato di chiudere, alcune hanno chiuso, e lei che rappresenta insomma il simbolo del teatro in Campania, se non vado errato forse saranno 50 anni o più che è nell'ambiente, o sbaglio. Insomma, è positivo per il prosieguo, nel senso buono della parola? Il teatro, insomma, cercherà di nuovo di riprendere la strada e probabilmente riusciremo a farlo emergere prima o poi? Guarda, in questo momento c'è una grande voglia, diciamo, di incontrarsi. Il teatro è il luogo giusto per incontrarsi, per vivere l'esperienza, e quindi il teatro sicuramente risorgerà, oltretutto è lì da sempre, credo che sia nata forse, non dico prima dell'uomo, ma quasi il teatro. Quindi sicuramente c'è stato e ci sta un momento di difficoltà, un momento di difficoltà che noi operatori dobbiamo vincere con le nostre proposte, con la nostra assiduità, con il nostro, diciamo, rapporto col pubblico, augurandoci, anzi, ne siamo certi che il teatro è il teatro e quello resterà per sempre. Assolutamente sì, e soprattutto con i giovani, devo dire, lo può anche Vittorio, insomma, sottolineare, con i giovani è così importante per la loro crescita, poi proprio etica e didattica nel futuro, che è assolutamente, secondo il mio parere, insomma, inserirlo nelle scuole proprio come materia, e quindi è utilissimo per la crescita di ognuno di noi, e a conferma dei nostri progetti che facciamo nelle scuole, e che appunto i docenti poi continuamente nel ritornare negli istituti ci confermano che è stato davvero molto, molto vantaggioso e positivo per i nostri giovani. Il teatro ragazzi è quello che ha sofferto di più, chiaramente, in questi anni, perché le scuole sono state chiuse, le mamme hanno avuto paura di far uscire i ragazzi, quindi diciamo che il settore maggiormente penalizzato è stato il teatro ragazzi, teatro ragazzi che noi, come Teatro Pubblico Campania, abbiamo sempre fatto, anche nei piccoli comuni. Ci siamo dovuti fermare, adesso riprendiamo, abbiamo fatto una rassegna importantissima su Napoli, ne faremo altre programmate anche su Salerno, e quindi speriamo di dare risposta a questa esigenza che effettivamente c'è. Vittorio, come dicevi in apertura, questa manifestazione Cilent Art Fest è anche una manifestazione sostenibile per l'ambiente, perché non c'è il montaggio di palchi, non c'è il montaggio di luci artificiali, si gode della luce naturale dei nostri tramonti cilentani, è vero, quindi questa è un'altra particolarità interessante direi. Anche per gli amanti dell'ambiente. Esatto, diciamo che abbiamo obbligato gli artisti e le compagnie ad accettare questo paletto importante per noi. Se volevano venire nel Cilento all'interno della nostra programmazione, dovevano rispettare quello che è un criterio, insomma, per noi fondamentale. Tutti gli spettacoli che da questa sera fino al 31 divano in scena, inizieranno come appunto abbiamo detto alle 18 e proseguiranno accompagnati da quella che è la luce naturale del tramonto. Non avremo palchi, non avremo allestimenti scenografici, quindi ci sarà un rapporto diretto tra il luogo ospitante, l'artista e il pubblico, che in qualche modo sarà lì con noi, partecipe di quel momento e di quell'azione. La nostra volontà è quella di creare proprio un'attività di partecipazione diretta con il pubblico, fare in modo che lo spettacolo e che la dimensione artistica che possa fuoriuscirne non sia calato, ma che possa arrivare proprio a diretto contatto con il pubblico e soprattutto con la comunità ospitante. Quindi questa è una cosa molto importante. Oltretutto in questi, il festival non è iniziato, diciamo la programmazione si è iniziata il 22, ma una serie di attività sono iniziate già alcune settimane fa con attività di residenza, di compagnie che hanno abitato e vissuto nei nostri comuni del Cilento. Quindi hanno costruito proprio dei progetti artistici partendo dal dialogo con gli abitanti e con le persone, insomma, dei luoghi ospitanti. E questa, insomma, è una cosa molto bella, è una cosa autentica, ecco che c'è, lascia un rapporto, lascia qualcosa di, ecco che va oltre lo spettacolo. È un'emozione che in qualche modo la si può vivere solo facendolo e vivendolo direttamente. Poi oltretutto, devo dire Gianni, è per me un onore condividere questa esperienza con Alfredo che è una persona oltre che di grandissima esperienza, è una persona di grandissima sensibilità. Quindi ritrovarsi di fronte e dialogare su determinati progetti artistici e anche progettuali di così ampio respiro è qualcosa che, insomma, non apprezzo. Quindi ogni giorno per me è una crescita importante e anche di questo è per me una grandissima palestra proprio in termini pratici. Oltre che ogni tanto devo cambiare la camicia perché si suda tanto in questi giorni. Questa testimonianza, insomma, che il direttore Balsamo dà ai tanti giovani, appunto, ha dato fiducia a te come a tantissimi ragazzi che poi hanno costruito un futuro con questa attività teatrale. E mi piacerebbe, direttore, adesso fare proprio il focus sulle capacità delle produzioni teatrali campane come pure gli attori campani e quindi un bilancio sulla forza se continua a mantenere la nostra tradizione teatrale campana in ordine alla nostra penisola italiana. Il cinema campano sta vivendo un momento fiorente, insomma, volevo sapere anche per quanto riguarda il teatro se manteniamo la vetta della classifica o è cambiato qualcosa? Dunque, io rappresento un circuito multidisciplinare che in Italia ce ne sta uno in ogni regione. Adesso non voglio essere troppo, diciamo, non dico ottimista ma insomma presuntuoso, diciamo così. Quindi ci stanno i circuiti in Toscana, in Emilia, in Veneto, in Alto Adice, in Puglia, in Sardegna, insomma, quasi 14 regioni hanno il circuito. I miei colleghi ci dicono, mi dicono e dicono, che aspettano la campania per fare le proprie programmazioni. Ho detto tutto. Notizie, ecco, non avevamo dubbi, mi permetta insomma il campanilismo, ma siamo assolutamente felici naturalmente e non avevamo dubbi di questa risposta da parte di tutti quanti gli altri che seguono ancora una volta Napoli e la Campania, perché siamo assolutamente i leader nel settore. Non lo so, Raffaella, se hai ancora domande, altrimenti lasciamo i nostri amici a lavorare per il Cilent Art, che sicuramente saranno bombardati da informazioni telefonate e quant'altro. No, vabbè, vorrei solo approfittarne per invitare degli spettatori di Cilento Channel, che come dicevi anche tu, insomma, adesso ci seguono da tutta la regione Campania, all'evento di questa sera, quindi promuoviamo l'evento che caratterizzerà un'altra location cilentana. Vittorio, allora a te la parola, invitiamo i nostri telespettatori. Non solo per questa sera, scusami Vittorio, non solo per questa sera, e poi anche per i giorni a più. Fino al 31, quindi venite in Cilento nelle varie location del tour. Prego, Vittorio. Quello che posso dire è che possono seguire tutto il programma sui nostri canali ufficiali, quindi sul nostro sito web troveranno tutta la programmazione, www.cilentartfest.it, oppure sui nostri canali social, dalla pagina Facebook e canali Instagram. E appunto, come diceva Gianni, il festival prosegue fino al 31 di luglio e vi aspettiamo con ansia in queste sere per animare e condividere con noi questi momenti di arte e di bellezza. Partenza qualche minuto prima del tramonto, giusto Vittorio? L'orario. Gli orari sono variabili, oggi è un momento con il progetto speciale Cilento Hosting Road to Perito, alle 17 e alle 18, poi alle 19 e 30 al tramonto abbiamo aperto Latini con lo spettacolo Venere Adone e a seguire abbiamo una parata degli artisti di strada, Arca dei Buffoni, con uno spettacolo che è una parata poetico-sensoriale. E poi così a seguire nei prossimi giorni avremo tanti altri altri. Ci resta che fare i complimenti a Vittorio per la sua direzione artistica, per questa idea, ma soprattutto ringraziamo ancora una volta il direttore del Teatro Pubblico Campano, Alfredo Bassamo, per averci onorato della sua presenza in questa rassegna stampa e per averci dato tante informazioni e soprattutto grazie per sostenere tanti giovani del Cilento, in particolare Vittorio, insomma, che è un agropolese, quindi grazie veramente. Grazie a voi, grazie a voi.